Ma noi siamo diciamo a un 80% in meno di prenotazioni, quindi prenotazioni cancellate e non più recuperate. Siamo a Cortona per capire come sta andando la ripartenza da una delle mete turistiche più gettonate, soprattutto da parte dei turisti straniere. Una ripartenza lenta, ci dicono alcuni esercenti e c'è grande speranza, soprattutto per i mesi di luglio e agosto. Un pochino di movimento inizia a esserci, un po' di italiani e anche qualche europeo che aveva tenuto duro fino all'ultimo sta provando a venire in Italia. Sicuramente è comunque una stagione totalmente compromessa per il nostro lavoro. Una Cortona un po' insolita quella che vediamo? Sì, sì, una Cortona invernale diciamo, anche qualcosa meno. Che cosa sperate per l'estate che arriva? Speriamo nel luglio e nell'agosto, che dicono che forse qualche straniero arriverà, negli agriturismi, nelle zone ricettive, speriamo. Ma sembra sempre meglio, poi soprattutto il fine settimana. Speriamo che luglio e agosto arrivino un po' di turisti. Abbiamo già gli indicatori che stanno salendo, soprattutto come prenotazioni rispetto a quelli che sono i nostri agriturismi, le nostre eccellenze, ma anche gli alberghi. Ieri abbiamo avuto una giornata stupenda con Cortona in fiore, abbiamo avuto un buon flusso di persone nonostante la pioggia del primo pomeriggio. Comunque tuttavia stiamo adottando varie iniziative per poter attirare turismo. Abbiamo notizia di poco fa che alcuni agriturismi hanno ricevuto prenotazioni e quindi questo è molto favorevole. Bonus vacanze può essere per voi un aiuto, posto che ancora non abbiamo capito se intanto dovrebbe essere facoltativo. Ho ricevuto proprio questa mattina una normativa che ci dà la possibilità di applicare il decreto. Noi lo applicheremo perché crediamo che sia una buona opportunità, anche se poteva essere probabilmente impostato in maniera diversa, perché comunque è l'impresa o l'agenzia o l'agriturismo che deve fare credito al turista che viene e poi recuperarlo come credito d'imposta in caso di tassazione. Comunque sì, lo applicheremo anche perché credo che sia veramente un modo per dimostrare che l'operatore turistico va incontro al turista cercando appunto di dare adeguamento a questo decreto. Cosa che reputo molto positiva per noi operatori è il fatto che non possano applicare il credito d'imposta e quindi il bonus i grandi portali tipo booking, tipo Airbnb, quindi o direttamente le strutture ricettive oppure l'agenzia di viaggio e tour operator. Quindi lo reputo una bella mossa anche perché la maggior parte di questi grandi gruppi sono gruppi stranieri che onestamente non ci hanno aiutato in questa fase e quindi credo che la normativa sia stata intelligentemente fatta per gli operatori che sono nel campo in questo momento.